Nuovo episodio della FL al massimo. Oggi parliamo di didattica a distanza e diseguaglianza, cercando di non abusare troppo con le allitterazioni. Partiamo da alcune osservazioni. Se c'è l'allerta medio chiudiamo le scuole, perché la sicurezza per carità non è mai troppa. Se ci sono le lezioni chiudiamo le scuole, ne ritardiamo l'apertura se è fine estate o anticipiamo la chiusura se per caso è primavera, che tanto gli ultimi giorni di scuola nessuno ne ha mai presi sul serio. Se questo è il quadro di riferimento ordinario, come fai a tenere le scuole aperte se è imperversa la pandemia e i giovani, come è noto, sono gli untori più pericolosi? Perché mandare i figli a scuola e prendersi qualche malanno se tanto c'è la dad? E comunque i figli delle elite non hanno bisogno di una scuola che funzioni, perché tanto l'università la faranno all'estero ed otterranno un posto nella classe dirigente per diritto di nascita. Per curiosità e senza polemica, ma da che parte si sono voltati i fanatici delle diseguaglianze, quelli sempre pronti a tartassare patrimoni e eredità, nel momento in cui si infligge il colpo di grazia all'unica e ultima cosa che poteva assomigliare a un ascensore sociale. La didattica a distanza alimenta le diseguaglianze, perché amplifica la distanza tra chi ha avuto la fortuna di nascere in un ambiente familiare che incentiva o agevola autoapprendimento e chi, trovandosi ai margini, non potrà che rimanere ancora indietro. Viviamo nell'epoca nel quale la conoscenza e le competenze sono da un lato accessibili come mai nella storia del genere umano, dall'altro consentono di migliorare la propria condizione ancora una volta in maniera unica. Eppure la disattenzione nei confronti del sistema scolastico e l'incapacità di comprendere l'importanza dell'istruzione è probabilmente tra le cause principali del declino italiano e non c'è PNRR o Drago della Provvidenza che possa salvarci da noi stessi se non riusciamo a prendere coscienza del problema prima di immaginare qualsiasi soluzione. Per la Fondazione Inaudi avete visto la FLA Massimo. Alla prossima settimana.